Basta i tecnici di Monti, basta politica degli scandali, bisogna ridare spazio alla gente alle proteste, è l'invito del Partito Comunista Sinistra Popolare. Crediamo che questa politica, anche quest'idea delle elezioni, dei posti, dei seggi, sia un po' da accantonare. Devono contare di più le piazze, le lotte, il popolo deve essere protagonista.